Si sblocca finalmente la situazione della stazione ferroviaria di Sansepolcro, per il suo recupero adesso arrivano 94.000 euro. Il progetto di riqualificazione della stazione ferroviaria presentato lo scorso giugno dalla Comune ha infatti ottenuto il finanziamento nell'ambito dei fondi stanziati dalla Regione Toscana per la rigenerazione urbana. La proposta elaborata dall'amministrazione comunale ha ottenuto il quarto punteggio tra i 58 progetti in gara presentati da 49 comuni in tutta la Regione. Da tempo l'interaia della stazione Biturgenze versa in condizioni precarie, come avevamo documentato in un nostro servizio. Tale situazione di degrado dal 2010 ad oggi è progressivamente peggiorata anche in virtù della temporanea dismissione del traffico ferroviario tra Sansepolcro e Lombra e a causa dei lavori di manutenzione messa in sicurezza della linea ferroviaria attualmente in corso. Il crescente stato di abbandono ha comportato di conseguenza anche utilizzi impropri di quest'area soprattutto nelle ore notturne. La rigenerazione dell'area della stazione dunque riveste ad oggi un ruolo di fondamentale importanza per il decoro di Sansepolcro sia estetico che funzionale ma anche sociale ed economico. Il progetto per la riqualificazione della stazione si basa sull'implementazione della struttura con funzioni a corredo della città in sintonia con il futuro punto di interesse costituito dal nuovo percorso costruito sull'ex ferroviario e soffossato di Vico. Sia le facciate che gli infissi dell'edificio saranno completamente restaurati così come il manto di copertura, le finiture interne, l'impiantistica. L'intervento favorirà inoltre la creazione di uno spazio pubblico attraverso l'allestimento di una piccola piazza attorno all'edificio. Il tutto con un'attenta conservazione degli aspetti storici della stazione. Per quanto riguarda la destinazione d'uso, i locali al piano terra e al primo piano, quest'ultimo originariamente destinato alla residenza del Capotreno, vedranno la creazione di aree polifunzionali concepite per ospitare attività pubbliche e realtà associazionistiche.